Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it sempre aggiornato 24 ore su 24 sportpress.it Come andava la settimana? Ci siamo allenati bene martedì, abbiamo fatto atletica mercoledì, giovedì, ci siamo allenati intensamente e sono contento. Abbiamo, come ho detto spesso, aumentato un po' i carichi e quindi di conseguenza c'è anche della stanchezza, però rispetto alla settimana scorsa abbiamo notato insieme allo staff che la condizione migliora un po'. Abbiamo spinto, chiaramente anche questa settimana e spingeremo ancora un paio di giorni della prossima e poi chiaramente i carichi di lavoro scimeranno per poi essere pronti a giocare secondo me i playoff che sono complicati soprattutto all'inizio secondo me. Saranno per noi complicati soprattutto all'inizio, la prima, la seconda serie saranno quelle un po' più, eventualmente poi la seconda serie saranno quelle più, sarà quella un po' più, le prime due saranno un po' le più critiche, ripeto, se passeremo il primo turno chiaramente. No, no, dimmi, dimmi, dimmi. No, 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 abbiamo dei problemi fisici e quindi rimarrà fuori il giocatore tra virgolette un po' più acceccato anche se sarà una scelta probabilmente che mi mette in difficoltà perché magari ricaderà su quel giocatore che invece aveva bisogno di giocare. Però sono scelto un po' difficile anche per questo perché sei in un momento dove comunque la fatica si fa sentire e devi fare 1500 calcoli, calcoli nel senso non per vincere l'opera della partita di domenica perché quello è assolutamente fuori dubbio che andremo per vincerla. Però poi la prossima settimana iniziano il playoff ci sono giocatori che hanno dei problemi fisici legati appunto a patologie non freschissime e quindi diventa un po' complesso. Poi magari c'è il giocatore che vuole far giocare di più e che magari soffre di questa patologia insomma un po' anche perché poi quello che io vado ripetendo è vero che dobbiamo mettere benzina ma dobbiamo mettere anche capacità di giocare insieme, abbiamo messo due o tre cose nuove quindi insomma dobbiamo lavorare anche su quello. A posto? Quindi è vero che sta fuori? No, non è detto, no, 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 a me che quello che sta fisicamente sta meglio e quindi sarà una scelta dettata probabilmente da un malanno fisico ho avuto durante una settimana probabilmente sarà fuori full perché appunto ha avuto questo mal di schiena che l'ha un po' martoriato e quindi lui potrebbe essere quello che però era il giocatore che volevo far giocare perché secondo me aveva bisogno di minuti in campo ecco. Come scusami? Sì per esempio abbiamo cambiato abbiamo cambiato proprio uno specifico un po' di roll per far giocare roba il pick e roll quindi è una roba che volevo provare vabbè queste sono sfide che ti capitano che ti capitano in qualsiasi tipo di percorso. Si è mai stata quella di non stare in periodo dopo la settimana scuola? Super, super, è stato bravo, no ma ci siamo allenati all'87% questa volta faccio percentuali in modo spettacolare e lui è stato uno di quelli che ha dato più di tutti sì sono contento della reazione che ha avuto anche perché poi come ho sempre detto ero dispiaciuto del fatto di 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 sono sempre dispiaciuto di aver mettere fuori un giocatore. Ti chiedo, visto che ormai nella partita se ne parlerà voi domani sera, quanto ti manca di andare in campo perché io il primo quarto, il domenica scorsa ti guardavo, sembra proprio un leone in gamba, anzi 3-2 eri fuori dalla gamba perché chiedi più guardi in campo come tutto il resto. Ma sai, secondo me hai dei vantaggi ad allenare da ex giocatore poi c'è anche dei svantaggi, è uno di questi è quello, l'altro è quello che tu ragioni con, pensi che il giocatore ragioni con la tua testa o comunque ragioni per come avresti ragionato tu, invece uno che non ha giocato forse questa questa sorta di 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 in medesimazione non ce l'ha e forse tante volte un vantaggio perché poi alla fine siamo tutti diversi quindi non è detto che un giocatore in campo la veda come come la vedi tu e lo accetti meno perché pensi che sia invece quello che c'è quello che pensi tu secondo te è quello che dovrebbe pensare anche lui e invece poi alla fine non non è così però hai dei vantaggi ad allenare dopo aver dopo aver giocato questo sicuro questo è uno degli vantaggi che secondo me che secondo me vivi l'altro appunto come dicevi tu appunto quello di non se non hai mai giocato a palacanestro questa questa sorta di dire ma adesso vado dentro io non ti viene perché tanto se vai dentro e non hai giocato fai solo dei danni io insomma come giocatore ho sempre pensato che quando quando era il pacchino era tempo perso e quindi dovevo andare a sistemare le cose in campo Mantova dicevi hai detto tu non si fanno calcoli è una partita che deve giocare servirà la prova generale per il playoff e che partita ti aspetti dice Mantova praticamente non vanno a chiedere il campionato ma sarà una partita strana strana perché 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 sono molto preoccupato sono preoccupato perché perché non è non sarà facile giocare contro una squadra che non ha nulla da perdere che comunque voglio dire ha dei giocatori che sicuramente dovranno far bene proprio contro la fortitudo uno su tutti legion e se sono 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 preoccupato perché perché vorrei vedere una squadra che sta in campo seriamente questo mi renderebbe soddisfatto non chiedo grosse prestazioni però chiedo sostanzialmente quello che chiedo poi alla fine ogni giorno di giocare di giocare una partita seria difendere fare le cose che che sappiamo fare giocare una simile partita per me la partita la partita a cui io faccio sempre riferimento la partita della prima partita con montegranaro quella secondo quella partita lì sono me siamo stati siamo stati molto bravi e dobbiamo riuscire a giocare con quella mentalità lì sempre sempre ed è un compito che 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 ricade soldi esclusivamente su di me sì ho chiamato un elettricisto sì un po adesso non è per cercare un alibi ma è ci sono le squadre che magari soffrono a rimbalzo le squadre che soffrono il contropiede le squadre che tirano male ci sono le squadre che magari hanno degli up and down questo un po' ce l'ha secondo me questa squadra ce l'ha un po' nel proprio dna però chiaramente come quando le squadre non vanno a rimbalzo cerchi di lavorare sul taglia fuori piuttosto che e quindi noi stiamo cercando di lavorare proprio su questo di aver meno pause c'è una c'è una problematica che ha che che hanno individuato che ha individuato il mio staff staff che tra l'altro ringrazio perché non l'ho mai fatto quindi usufruisco di questo di questo mini spazio per 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 farlo proprio pubblicamente taso robie e stefano sono incommiabili gli ho detto il contrario stefano robie taso per per un discorso di 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 ufficialità e quando 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 andiamo in down ci affidiamo un po troppo al talento quindi facciamo forse la cosa più difficile rispetto a quella più facile invece in quei momenti lì forse sarebbe più giusto andare sulla cosa un po più semplice invece facciamo facciamo spesso la cosa più complicata essendo poi la cosa più complicata non sempre ti riesce ecco questa storia con la sua volta ne hai parlato si sì abbiamo affrontato il problema ne sono consapevoli però è come quando hai un figlio e gli dici ne so non mangiare 100 caramelle caramello Il bimbo alla fine non basta dirglielo, è una placanestro uguale, devi lavorarci, devi avere del tempo, cosa che non abbiamo, però rimango fiducioso e so che questa squadra ha le potenzialità per giocare anche senza pause, o, perché le pause secondo me derivano, poi mascherarle difendendo sempre, ecco, questo è un po' quello in cui credo. Giacomo Fricco, posto. Una roma veloce e veloce, la Pasquale hai partecipato alla presentazione del film, eccetera, eccetera, ti sei un po' rivisto, in quei tempi, cosa hai pensato, insomma, come vivete con voi? No, sai perché mi vieto a ridere, non mi sono rivisto, poi sono andato via al solito, no, anche perché vivo una vita completamente diversa da quello che vivevo una volta, mi sveglio alle 6 del mattino, lavoro fino a una certa ora e poi dopo le 5 mi piace staccare, stare a casa, guardare un film, rilassarmi e chiaramente non mi piace uscire la sera. L'altro giorno sono andato molto volentiero, ho rivisto grandissimi personaggi, ho conosciuto Bonaga, splendido, ho rivisto Jack Zatti, Brunamonti, insomma, da entrambe le sponde, ex grandissimi giocatori, grandi persone, però poi ho eseguito il mio compito, quello di dare una testimonianza e poi ho soffrito del... Vedi che ogni tanto quando si spengono le luci, però non va poi così male, perché te ne puoi andare, potrei fare la stessa roba, quando smettiamo di giocare me ne vado, quindi io alleno solo quando giochiamo, beh... Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.